Non potevano andare in gita scolastica. Con i loro compagni, per esempio, non possono, se fanno l'università e si laureano, non possono partecipare ai concorsi. Ma se fanno l'università, che ha già compiuto il diciottesimo anno, possono fare la richiesta della cittadinanza. Non è così facile, la verità è che lo YouSoli non lo fate per i bambini, lo fate per un problema elettorale, per spazio a sinistra. E per tentare di dare la possibilità ai genitori di quei bambini di accelerare il processo di cittadinanza. Signore, non fatemi arrabbiare l'aravetto che è incinta al quarto mese, per cortesia. Non è subita che si strumentalizzino i bambini, che nel nostro Paese hanno gli stessi diritti. Perché fortunatamente siamo un Paese evoluto che rispetta tutte le convinzioni per i minori e si utilizzano i bambini per raggiungere altri scopi. Cosa che si sta capendo anche nella maggioranza, perché la popolare non vuole votare questa legge. Il tema dei vaccini, Salvini ieri ha difeso la decisione del governatore del Veneto, Zai, di sostanzialmente...